Almeno di un minuto al termine, deve accelerare la Sucasti se vuole provare a rimontare questo svantaggio. Arriva la botta, la gamba della Zbog, 29-24. Ne manca una ora all'Algeria per conquistare questo oro. Qui si distrae, la comintia di aver già toccato, si distrae e subisce la stoccata numero 25. 30 secondi. La stoccata dell'Algerina con l'arresto che regala all'Odo, all'Algeria il secondo Odo per l'Algeria in questi campionati del Mediterraneo. Allora si chiudono così, il campionato del Mediterraneo in scherma a Cagliari 2019. Vince i campionati del Mediterraneo 2019 a squadre mista femminile, the winner of Women Mixed Team Mediterranean Championship Algeria! L'Italia chiude con la vittoria del medagliere, 43 medaglie di cui 15 d'oro. 16 dolari. Della Confederazione Italiana Scherma per la Sardegna. Presidente del Sardegna Regional Committee per l'Italian Fencing Federation. Qui Rauf, Vice Presidente della Confederazione del Mediterraneo, Vice Presidente della Confederazione del Mediterraneo, Vice Presidente della Confederazione. Indices a tutti i giornaliπου in schermini- Grazie a tutti. Signori e signori, prego a sarsi in piedi per ascoltare l'inno nazionale algerino. Ladies and gentlemen, please stand up and listen to the ancient anthem of Algeria. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.